Buonasera a tutti, continuiamo la carrellata delle piante che noi possiamo utilizzare come rimedi naturali per la depurazione, la disintossicazione del nostro organismo e intendo anche una disintossicazione che vada a 360 gradi, quindi fegato, reni e pelle. L'esempio diciamo più semplice di cui possiamo parlare e che tutti conoscete è Cinaras colimus che è il nome botanico del carciofo. Il carciofo lo utilizziamo come verdura sulle nostre tavole ma dal punto di vista fitoterapico viene utilizzata la tintura madre che è un ottimo epatoprotettore e drenante del fegato. Un'altra pianta molto conosciuta e utilizzata sempre come drenaggio di fegato e reni potrebbe essere il silibum mariano che è il nome botanico di cardo mariano. Anche qui abbiamo praticamente l'utilizzo della tintura madre che è ricca di silimarina che è quella che va a mettere in funzione le nostre cellule epatiche e a proteggerle dai radicali liberi. Però visto che abbiamo parlato anche di drenaggio di pelle la pianta che possiamo utilizzare potrebbe essere Actium lappa. Actium lappa è il nome botanico della bardana. La bardana praticamente è molto funzionale su tutte quelle forme di intossicazione che ci danno delle manifestazioni dermatologiche per esempio i brufoli oppure le dermatiti che possono essere causati comunque anche da disordine alimentare. La bardana usata in tintura madre può aiutarci in tutti questi casi dove praticamente aumenta l'unto sia sulla nostra pelle ma per esempio anche a livello dei nostri capelli. Quindi può essere utilizzata con successo come depurativo e drenante degli emuntori della pelle. Ricordatevi che disintossicarci potrebbe essere ottimo mescolare queste piante quindi avere un depurativo per fegato, per remi e uno per la pelle preparati magari tutti insieme nello stesso prodotto. Qui basta affidarsi al vostro medico farmacista di fiducia in modo da farvi personalizzare la terapia. Vi aspettiamo per una buona disintossicazione. Arrivederci e buona serata.